Una corretta gestione dell'impedenza è un elemento fondamentale per garantire l'integrità di segnale della board. Tuttavia, i controlli basati su regole DRC non misurano realmente il valore di impedenza, ma aiutano semplicemente a gestire delle regole generali. L'integrazione del workflow di analisi di impedenza nel Canvas ti permette, in quanto PCB designer, di identificare e risolvere facilmente i problemi di SI del tuo progetto. Filtra e seleziona le net critiche del tuo progetto per analizzare l'impedenza. Una scala cromatica dal rosso al blu mostrerà quali tracce del progetto hanno l'impedenza maggiore. È anche possibile visualizzare le tracce con relativa impedenza in una tabella. Naviga rapidamente fino all'area del problema cliccando su un data point sulla tabella per passare direttamente alla traccia in questione. Qui, una divisione nel piano genera una discontinuità nell'impedenza. Regola i piani per risolvere il problema e rilancia l'analisi per vedere i risultati. Analizza, simula e risolvi facilmente i problemi di integrità di segnale e completa i tuoi progetti senza problemi e in un'unica volta.